Lezione della Guida del Sentiero numero 148, 2 dicembre 1966 Positività e negatività, un'unica corrente energetica Saluti miei cari amici, che la benedizione dell'intelligenza creativa intorno a voi e in voi vi rafforzi e vi illumini Affinché queste parole vi risuonino dentro e costituiscono del materiale utile per procedere con successo nel cammino alla ricerca del vero io In molti, amici miei, avete individuato uno strato dentro di voi in cui avete visto in faccia la vostra stessa distruttività E non intendo solo la scoperta di un'emozione, il prendere atto di una ostilità momentanea Parlo di una distruttività complessiva e pervasiva, essenziale e persistente, rimasta latente fino a quel momento Che era semplicemente coperta È un'esperienza ben diversa individuare quello strato, sentirlo e accurare la condizione in cui vi trovate prima di avere questa nuova consapevolezza Ora, vi trovate nella condizione di poter osservare voi stessi mentre pensate, sentite e agite in modo distruttivo Mentre prima, nel migliore dei casi, sapevate di quella distruttività solo in teoria E potevate semplicemente dedurne la presenza da alcuni spiacevoli eventi occorsivi nella vita Adesso state affrontando il problema di come uscire da quella condizione Siete perplessi perché vi piace sentirvi in quel modo E sapete anche, e capite molto bene, quanto quella condizione sia inutile e priva di senso E che la distruttività non serve a un bel nulla Tuttavia, vi trovate nella condizione di non riuscire a rinunciare a quella distruttività Non è facile diventare consapevoli abbastanza da rendervi conto di come voi pensiate, sentiate e agiate in modo distruttivo E come tutto ciò, vi procuri infelicità E tuttavia, non potete, né volete, rinunciare a quel modo di essere È degno di grande successo Se si può usare il termine Conseguire la consapevolezza di tale condizione Ma per realizzare la seconda parte di questa fase della vostra evoluzione Che consiste nella rinuncia alla distruttività Occorre capirne meglio la natura Tutto il problema umano del concetto dualistico della vita Ha molto a che vedere con il fatto che l'umanità non comprende la propria distruttività Gli umani pensano automaticamente che la forza distruttiva sia antitetica alla forza costruttiva Persino chi tra voi in teoria sa molto bene che tale divisione non esiste Tende a pensare Provo dei sentimenti negativi Mentre invece vorrei provarne di positivi Eppure pensate che dopo le emozioni negative siano svanite Posso subentrare un nuovo tipo di sentimenti Come se questi fossero fatti di un'energia o di un materiale psichico totalmente diverso Quando si parla di due forze Di due tipi di sentimenti È solo una figura retorica Un modo di esprimere due diversi tipi di esperienza Tuttavia questa figura retorica è un'espressione del malinteso dualistico Che opera all'interno di tutta la coscienza umana In realtà esiste solo una forza Ed è molto importante capirlo amici miei A maggior ragione quando si comincia ad affrontare la propria distruttività e negatività C'è una forza vitale Che infonde energia in ogni espressione della vita La medesima forza vitale può circolare in modo costruttivo, positivo, assertivo Oppure trasformarsi in una corrente distruttiva e negativa Per comprendere questo processo in modo specifico e personale Ne parlerò dal punto di vista di un individuo in relazione alla sua vita Non vi parlerò di principi spirituali in generale Ma ne farò cenno solo se sarà utile a comprendere l'argomento Per prima cosa vi dico che la forza vitale in quanto tale Non viene allertata È totalmente costruttiva Positiva e assertiva E pertanto genera piacere assoluto In ogni entità cosciente che vive, sente, percepisce Più si sviluppa quella coscienza Più è ricco il piacere che l'entità potrà ricavare dalla sua pura forza vitale E attraverso di esse In qualsiasi modo esse si manifesti La pura forza vitale non può essere altro che bellezza Qualsiasi organismo vivente tende a realizzare questa potenzialità in natura Un neonato, una pianta, una cellula Quando si interferisce con quel flusso naturale Si blocca la corrente di energia Che sta cercando espressione E la si impedisce di seguire il suo corso Il flusso naturale si può bloccare a causa di condizioni esterne o interne Oppure di entrambe Quando i più vicini trovano nell'ambiente esterno condizioni che bloccano il flusso naturale della forza vitale L'entità del danno che subiscono dipenderà da quanto essi siano liberi da blocchi interni In presenza di tali blocchi dormienti Già che non risolti nel corso di esistenze precedenti Le condizioni negative esterne creano un serio blocco Che congela la corrente di energia fluttuante Cristallizzandola in una massa psichica indurita In assenza di blocchi passati Le condizioni negative esterne possono creare tutt'al più un disturbo transitorio Nel flusso della forza vitale Nella vita i problemi più ostinati provengono da quel blocco Che si può rimuovere solo comprendendo appieno La relazione tra le condizioni negative interne ed esterne Che hanno creato Le facoltà immature dell'io del bambino Rendono impossibile gestire in modo adeguato la condizione negativa Una condizione negativa esterna dunque Non potrà mai essere la causa principale Del considerarsi, condensarsi dell'energia E della paralisi del flusso vitale Essa può rappresentare solo il fattore di attivazione finale Che fa emergere la condizione negativa interiore Quel luogo dell'anima in cui condizioni negative esterne Attivano la condizione negativa interiore dormiente È esattamente il punto in cui la forza vitale positiva Si trasforma in forza non vitale distruttiva I sentimenti passano dall'amore alla paura All'ostilità Alla fiducia e alla sfiducia E così via Alla fine l'energia negativa diventa talmente insostenibile Che tutti i sentimenti ad essa collegati Ne restano intorpiditi Quando gli esseri umani si trovano su un percorso come questo È molto importante che capiscono per bene Che un'emozione negativa non può essere sostituita Da una differente emozione positiva Ma la si deve riportare al suo stato originale Ma in che modo, amici miei? Ogni individuo deve capire come il comportamento Ripeto Ogni individuo deve capire come quel flusso di energia Ha il suo stato originale Ogni esperienza di vita spiacevole, problematica O che genera ansia Deriva dal ripetersi dell'evento originario Avvenuto in questa vita Quando l'energia positiva del piacere Era stata bloccata O ostacolata O impedita E dunque trasformata in non piacere Ora, non si può affermare con precisione Che in questo non piacere Non vi sia anche un po' di piacere Lo accennavo prima in un altro contesto Ma dato che non si comprende ancora con sufficienza Questa condizione lo spiega una angolazione diversa Se nel tentativo di superare la negatività Vi sentite ostacolati È molto importante che percepiate nel fondo L'aspetto piacevole di quella negatività Indipendentemente dal dolore Che provate a livello cosciente e di superficie La difficoltà a liberarvi della distruttività È anche dovuta certamente ad altri motivi Che avete già verificato Il desiderio di punire o di usare La corrente di forzatura dice Se sono abbastanza infelice Il mondo capirà che spaglia A non darmi ciò che voglia Ma non sono queste ragioni L'ostacolo più grande della dissoluzione della negatività Occorre prima percepire con intuito E poi sentire in modo molto specifico Nella vostra negatività Paradossalmente sono presenti allo stesso tempo Sia il piacere che il non piacere Capirete meglio Osservando il processo alla luce di quanto detto Il principio del piacere Non può mancare del tutto Anche se appare in forma distorta Gli ingredienti di base dell'energia vitale Sono sempre lì Per distorto che possa essere Il modo in cui si manifesta Cosa che rende difficile Rilevare la natura originale Della vita corrente È proprio per questo Che sembra tanto difficile Eliminare la negatività Il suo aspetto piacevole rimane Quando capirete che è sufficiente Modificarne la forma di espressione Per riconvertire la stessa corrente vitale Potreste lasciarvi la negatività alle spalle Quando capirete che è possibile Lasciare andare gli aspetti dolorosi Cioè la sua espressione negativa Man mano che prende forza L'aspetto piacevole La negatività potrà essere trasformata Quando capirete che il nuovo tipo di emozioni Non viene dal nulla Ma che è la stessa corrente A manifestarsi in modo diverso Allora ciò che sembra difficile Si realizzerà da sé Meditateci sopra E diverrete consapevoli Del piacere Connesso con la vostra distruttività Anziché sentirvi in colpa Per quel piacere E dunque reprimerlo Potete permettere Alla corrente distruttiva Di dispiegarsi E di esprimersi E di riconvertirsi L'unione O collegamento Tra piacere e distruttività Ha determinato Il diffuso senso di colpa Degli esseri umani Davanti a ogni esperienza Di piacere Si deve a questo Anche La paralisi Del sentire Come si potrà Svincolare il piacere Dalla distruttività Se si ritengono Parimenti sbagliati Entrambi Eppure Gli esseri umani Non possono fare Almeno del piacere Anche se costretti A nasconderlo Poiché vita E piacere Sono la stessa cosa Se il piacere È legato Alla distruttività È impossibile Rinunciare A essa Sembrerebbe quasi Di rinunciare Alla vita Ciò Determina La situazione Per cui Su un certo livello Della vostra Vita interiore Vi attaccate In ugual misura Al piacere E alla distruttività Cosa che suscita In voi Al contempo Un senso di colpa E il timore Di entrambi Su un livello Più concio E superficiale Invece siete Come intorpiditi E riuscire Ad avvertire Poco O nulla Non basta capirlo In modo generico Ma dovete vederlo Nelle vostre Situazioni specifiche Qual è? In questo momento La manifestazione esterna Che vi procura Un continuo senso Di angoscia Non è un'esperienza Transitoria Dovuta a una certa Situazione Che svanisce Il sorgere Di nuove condizioni No Sono i problemi Della vita Con cui Non si può Venire a patti Per risolvere Davvero Queste condizioni Che chiamiamo Immagini O che Ricreiamo Di continuo Condizioni Analoghe In nuove situazioni Si deve rendere Nuovamente fluida L'energia bloccata E paralizzata E questo Accadrà solo Se inizierete Per prima cosa In questa fase Di crescita A sperimentare L'aspetto piacevole Insito Nella distruttività Dovete sentire Il piacere Connesso Alla non piacere Del problema La presa di coscienza Dovrà essere Netta Dato che Per voi La corrente Di piacere Della forza vitale Assume La forza Permanente Ripeto Preminente Della sessualità L'energia distruttiva Bloccata Ha in sé L'energia sessuale Bloccata Dunque I problemi esterni Sono un simbolo O segno Di come Le condizioni esterne Abbiano dapprima Bloccato L'energia sessuale Il dolore Del blocco Ha prodotto Una distruttività Che contiene Anche aspetti Del principio Del piacere Pertanto Ogni situazione Difficile Della vita Va a fissare Nella psiche Più profonda Elementi Di sessualità Che voi Temete E rifugite E dato che Non li affrontate Le condizioni esterne Diventano Irrisolvibili La situazione Si aliena Sempre di più Dalla causa Interiore In cui È ancora Tenuta Tuttavia Dall'aspetto Del piacere Chi segue Il sentiero Dovrà quindi Fare un passo Indietro Per così dire E Consentirsi Di provare Il piacere Nella distruttività Allora E solo allora Comprenderete Per davvero Quella dolorosa Situazione esteriore Che lì Per lì Potrebbe Sembrarvi Avolsa Dalla vostra Vita emotiva O da problemi Sessuali Ho detto Spesso Che il segreto Dei vostri Conflitti E la chiave Per risolverli Alberga Nelle fantasie Sessuali Più Recognite Trovate Trovate Nella vostra Sessualità Il parallelismo Tra il problema Esterno O la corrente Del piacere E Serete in grado Di Riattivare L'energia Congelata Ciò Vi permetterà Di dissolvere La negatività Cosa Che è Certamente Essenziale Per risolvere Il problema Esterno L'incapacità Di provare Piacere Nel non Piacere Deriva Dalla lotta Contro se stessi E dal non Piacersi A causa Di questa particolare Distorsione Di conseguenza Da quel nucleo In cui Sperimentate Quelle condizioni E Modificarle Un po' Distorta Emergono Negazioni Repressioni E ulteriori Alienazioni Ogni problema Ha un nucleo Simile In cui La corrente Originale È stata Bloccata Ed è quindi Distorta E In cui La dicotomia Piacere Non piacere Fissa A un livello Inconscio L'esperienza Del piacere In una situazione Negativa A quel punto Voi cercate Di reagire Per una serie Di motivi Con ulteriori Conseguenze Che iniziano A formarsi Dei problemi Esterni I quali Si perpetuano E restano Irrisolti Finché Non si fa Esperienza Di quel nucleo Ciò Vale Per tutti I problemi Ostinati Che Abbiano a che fare O meno Con la Sessualità Adesso Amici miei Dovete capire E affrontare Di persona Questa reazione A catena Dovete Smettere Di sfuggire Alla distorsione Che c'è In voi Permettetevi Di vederla E di lasciare Che essa Si sveli In voi Di viverla Pieno Dentro di voi E allora Noterete la dicotomia Tra piacere E non piacere Capirete E sperimenterete Perché E in che modo La distruttività In qualsiasi forma Essa si manifesti Nella vostra vita Sembri così Tanto difficile Da abbandonare Allo stesso tempo Essa farà Molto meno Presa Di prima Quando cercavate Di allontanarla Da voi Ancora ignari Di ciò Che avete Appena Imparato Tutto questo Può sembrare Molto teorico A chi Sia ancora Lontano Da quel punto Ma In molti Amici miei Siete Giunti Al punto In cui Mettere in atto Queste parole Oppure Ci siete Vicini Sarà Una svolta Per la vostra Vita interiore E di conseguenza Anche per quella Esteriore Dopodiché Rinunciare Alla distruttività Non sarà Più Un problema Esercitare La volontà Di superficie Non serve A nulla Occorre Comprendere A fondo Le forze Interne Di cui È costituita La stessa Distruttività Certo In linea Di principio Occorre Anche la volontà Ma Allo stesso Tempo Come ho detto In tanti altri Contesti Si dovrebbe Ricorrere Alla volontà Esteriore Solo per Liberare Quei poteri Interiori Che rendono Lo sviluppo Un processo Naturale Organico E armonioso È così Che si Dissolve La distruttività Non è un Mantello Che ci si toglie Addosso Né Si possono Generare Sentimenti Costruttivi Con un mero Atto di volontà È un processo Evolutivo Che avviene In voi Qui E ora Un altro Ambito A cui Voi umani Siete Altro modo Bloccati Impacciati E impazienti Con la vostra Evoluzione O sviluppo Ha a che vedere Con l'invidia È un argomento È un argomento Di grande importanza Molto più Di quanto La maggior parte Di voi Realizzi Anche qui Alcuni amici Hanno iniziato A vedere Laddove Incontrano Dei problemi Nella vita Lì c'è Lì c'è Lì c'è Lì c'è l'invidia In caso contrario Vuol dire Che non ce n'è L'invidia Genera Odio di sé E fuga Da quel punto Della corrente Dell'invidia Che occorre Trascendere Perché l'invidia Possa essere Ricondotta Effettivamente Alla sua natura Originaria Di nuovo Causa dell'invidia È il concetto Dualistico Per cui la vita È intesa In termini Di O O O ce l'ho io O ce l'ha l'altro È la natura Di ogni Invidia Che evidenzia Il limite Con cui l'umanità Sperimenta L'universo L'universo È infinito Nella sua Abbondanza E essere Consapevoli Rende impossibile Ogni forma Di invidia Ciò Che qualcun altro Possiede Non è stato Sottratto A voi Ciò che avete Voi Non è stata Tolta A altri Questo Equivoco Dualistico Fa nascere Infiniti Problemi Non solo Genera invidia Ma anche Senzi di colpa Paralizza Il flusso Calmo E potente Che porta Il bene Che può Diventare Vostro Vi rendete Molto Esitanti Nell'esprimere E sperimentare Tutto Il meglio Che c'è E che vi fa Vedere i problemi In modo Distorto Esso Infonde Un senso Di colpa Per il fatto Stesso Che desiderate Ciò Che gli altri Hanno E Allo stesso Tempo Suscita Invidia Invidia A questa percezione Distorta Delle situazioni Della vita E' anche dovuto L'atteggiamento Competitivo Endemico Che affligge L'umanità Molto evidente Presse alcune civiltà In determinate Fasi Della loro storia Tuttavia Comprendete La verità Spirituale Di questa Materia Rende impossibile Agli individui Di misurarsi Con gli altri Il confronto Tra le due persone E' del tutto Irrealistico Poiché Pretende Di valutare Ciò Che non può Essere valutato La persona Che non incappa Più In quest'errore Sarà libera Da una specifica Forma di distruttività Una volta Compreso Il principio Di unione E che Il bene Non potrà Mai essere diviso Svaniranno Diversi problemi Non proverete Invidia E dunque Non vi sentirete In colpa Non dovrete affrontare L'apparente necessità Di rinunciare A qualcosa Per il bene Altrui Perché saprete Che nel profondo Che ciò che è vostro È solo vostro E ciò che possiede L'altro Appartiene Solo a lui Sarà proprio Questo fatto A rendervi Impossibili L'egoismo La disonestà Insiti Nella natura Infantile In cui prevale La sentenza A barare La tendenza A barare Con la vita Non dovete più Cercare di Passarla liscia Con tutto Ne vi dovete Considerare Speciali Nel confrontarvi Con gli altri Nell'ultima sessione Di domande E risposte Abbiamo trattato L'argomento Per replicare A una domanda Sui danni Del desiderio O del bisogno Di sentirsi speciali Riguardo Al tema Di questa lezione Vi dico Che quel bisogno Nasce Dalla confusione Tra la legittima Tendenza Alla piena realizzazione Di sé E l'intimo Bisogno Di conseguirla Dov'è La confusione Un'autorealizzazione Completa Non fa che Accrescere L'unicità Dell'individuo L'individualità Non viene appiattita Né tantomeno Essa comporta L'essere Mediocri Tutt'altro Perché Allora Si ritiene Che non si avverte Il bisogno Di essere speciali Si sta Rinunciando All'individualità O accettando Persino La mediocrità È perché Quando nel bisogno Di essere speciali C'è il desiderio Di prevalere Sugli altri Si adotta Un atteggiamento Di contrapposizione Agli altri È come dire Che non si può Essere migliori Solo a scapita Di altri E questo È l'O O Derivante Dal concetto Dualistici Errati E sempre Distruttivi In realtà In questo modo Si distrugge Il valore Dell'altro Se non di fatto Perlomeno A livello Concio Di desiderio E intenzione L'altra Conseguenza È che Il processo Autoregolante Della coscienza Radicato In profondità Dice di no A quel tentativo E blocca La corrente Di energia In uscita La corrente Diventa quindi Negativa Oppure Si intorpidisce Di conseguenza Si diventa Passivi Paralizzati Frenati Oppure Privi di scrupoli Con inevitabili Sensi di colpa E ricadute Esterne Il bandolo Il bandolo Della matassa Per uscire Dalla confusione Si trova Solo distinguendo I due modi Completamente Differenti Di misurare O valutare Ciò che di fatto Sono due obiettivi Del tutto Diversi Se vorrete Se vorrete sentirvi Speciali Prevaricando Gli altri Se il vostro Essere Unici Va a scapita Degli altri Viene alimentato Dal confronto L'unica città È distruttiva E per molti Motivo Di problemi Infiniti Ma Se vi rendete Conto Che il vostro Essere speciale Potrà avverarsi Senza bisogno Di misurarvi Con gli altri Non avrete Alcun problema Sarete Liberi Di Sbloccare E di dischiudere Il meglio Di voi Senza violare Le esigenze O i diritti Altrui Al contrario La vostra parte Migliore Darà agli altri Anziché Sottrarre da essa E saprete dare Il meglio di voi Senza il bisogno Di barare Di farla franca Di prendere Di più Di quanto Diate Liberare Quell'energia Attiverà Un'energia Ancora più grande E non sarà Necessario Mettere Alcun freno L'invidia I sensi di colpa E la disonestà E lo sminuire Gli altri Creano Il bisogno Di mettere Un freno Alla corrente Di energia In uscita Più costruttiva Di cui si dispone Ignorando che c'è Già in voi Il potenziale Per ogni forma Di autorealizzazione L'unico Modo Che concepite Per esprimere Voi stessi È quello Di misurarvi A confrontarvi Con gli altri Se sapete Di avere Già la vostra Quota di crescita Per potenziarvi E realizzare Che siete migliori O peggiori Degli altri Non sarà Alcun conflitto Di sicuro Stanno ad essere Ostacolando in tal modo L'operato Dell'energia positiva Convertendola In energia Distruttiva Quando provate Invidia Oppure Se si guarda L'altro lato Della medaglia Il bisogno Di impressione Degli altri O di essere Migliori di essi Cercate Di percepire L'energia costruttiva Che va Oltre il bisogno Bisogno Che è solo Una distorsione Dello stimolo Innato A realizzare Il meglio Che c'è In voi Fatelo E blocchi E paralisi Svaniranno Ci sono Domande Domanda Che cosa rende La percezione Del piacere Così unica E specifica In rapporto Al non piacere Risposta È una domanda Importante E la risposta Potrebbe non sembrare Diretta Ma lo è È risaputo Che voi Umani Temete Il piacere Se siete Ancora Presi Da conflitti E problemi Di cui Non comprendete La natura Ognuno Di voi Del sentiero Se va A fondo Abbastanza Da sondare Le proprie Reazioni Scoprirà Un fatto Inatteso Di temere Il piacere Più Del dolore Sembra Assurdo A meno Di non aver Già Constatato In voi Questa reazione Già che Distegnate Consciamente Il non piacere E lo evitate E in questo C'è anche Del vero Perché Non si può Davvero Desiderare Il non piacere La dicotomia Si risolve Entrando Nei vostri Processi Psichici Provando Il piacere Insito Nel non piacere Voi Temete Il piacere Totale Per una Ragione Molto Importante A una Personalità Ancora una Volta Negatività Distruttività Il piacere Supremo Della corrente Dell'energia Cosmica Deve Apparire Insopportabile Spaventoso Travolgente E quasi Annichilente Per dirle In altro Modo Se la Personalità Ha Alterato La propria Integrità Se Nella Psiche Ci sono Ancora Impunità Disonestà Inganno Malizia Essa Respingerà Il piacere Puro Dunque Il piacere Negativo Diventa L'unico Modo Di provare Un minimo Di piacere Quando Nel cammino Scoprirete Di temere Il piacere Nel profondo Quasi Che fosse Un pericolo Chiedetevi In quali ambiti Non sono onesto Con la vita O con me stesso Dove sto barando Dove sto fiaccando La mia Integrità Quegli ambiti Mostrano Con precisione Dove E perché In quale misura Voi rifiutate Il piacere Puro Quando avrete Constatato Che siete voi A temere E rifiutare Il piacere E non La vita Che bene Prima Allora Potrete venire A capo Provandovi Ponendovi Le giuste domande E identificando In voi Gli elementi Alterati E questa La soluzione Trovate Dove violate Il vostro senso Di decenza E onestà E sbloccherete La porta Che sbarrava L'accesso Alla trasformazione Del piacere Negativo E che vi Costringeva A scacciare Il piacere Non associato Al dolore Domanda Definireste Il piacere Come espansione E il dolore Come contrazione Risposta Sì Proprio così Il dolore È contrazione Nel senso Di spasmo Ma anche Nel piacere Puro C'è Contrazione Sebbene caratterizzata Da un movimento Regolare Ritmico E armonico Il non piacere È una contrazione Prolungata Simile A un crampo Domanda Io sperimento La paura Del piacere Come paura Della perdita Di me stesso È questo Quello che Intendevi? Risposta Sì Esatto Prova a pensarci In termini Di fiducia Quando a livello Conscio O inconscio Percepisci Che nel profondo I piccoli Meccanismi Nascosti Con cui eviti Di essere Franco Nei confronti Della vita Stessa O quando La tua risposta Alla vita È negativa O In tutto e per tutto E pertanto Il tuo senso Di integrità Ne risulta Alterato Non riuscissi A confidare In te stesso E Non potrai Farlo nemmeno Fuggendo dal nucleo Del principio Negativo Del piacere Come vi stavo Spiegando Principio negativo Che occorre Accettare Comprendere E vivere Nell'intimo Nella piena Accoglienza Di sé Prima Di riuscire A confidare In sé stessi Senza difese Come dico spesso Il vostro Io profondo Le energie Psichiche Le energie Vitali Sono fatte Dalla stessa Identica sostanza E non potete Confidare In voi Senza fidarvi Della vita Se a qualche Livello Di fidate Di voi Per una Qualsiasi ragione Giusto Sbagliata Che sia Come potrete Calarvi Nelle vostre Profondità Interiori O nel flusso Della vita Per lasciarvi Andare Dovrete fidarvi E la fiducia In linea Di principio È di certo Ben giustificata Ma di fatto Spesso Non lo è È in determinate Circostanze Occorre Stabilire Una piena Accettazione Di sé Perché ci sia Fiducia Allora Non ci sarà Più Alcun timore Di perdere Se stessi Perché quel Perdersi Verrà sostituito Come Ritornare Ripeto Perché quel Perdersi Verrà vissuto Come un Ritornare A sé Che porta Grande ricchezza Domanda Il principio Del dolore Del piacere È una caratteristica Della nostra Sfera terrestre Risposta Sì Lo è E questo Non vale Solo per Gli esseri Incarnati Ma anche Per tutti Coloro Che si trovano In questo Specifico Stato di Coscienza Che abbiano Un corpo Oppure No Vale a Dire Per chi Volge La propria Coscienza Al concetto Di dualismo Per chi Non riesce A percepire La vita Conciliante Unificante Della creazione Della vita Nemmeno Dentro di sé In questi Casi Il Piacere Il dolore Possono esistere Solo come Opposti Come vi dicevo Prima Su questo Piano Le forze Buone Cattive Il piacere Il dolore Sono ritenute Due forze Separate E non Un'identica Corrente Di Energie Domanda Mi sembra Che quando Faccio Qualcosa Che non Mi piace Che spalanca La strada La rabbia Senza di colpi E invidia Tendo a ritenere Che gli altri Siano responsabili Del fatto Che io sono Come sono E corretto E come Mi dovrei Comportare Se anche Alcune colpe Attribuite Ad altre Fossero In parte Giustificate Come di solito Capita Alle persone Normali C'è di sicuro Qualcosa In te Che ignori E che ti Dà fastidio Altrimenti Non avresti Nulla Di disarmonico In te E relativamente Facile Accettare Le carenze E i fallimenti Altrui In caso contrario Non ti imbatteresti In situazioni Che influenzano L'io In modo Negativo La presenza Stessa Di tali Disturbi Sta a indicare Degli elementi ignoti Di cui Occorre Accettarsi Prima di poter Eliminare I sentimenti Distruttivi Pertanto La rabbia Viene rivolta Essenzialmente Verso il sé Potresti provare Rabbia Per il fatto Stesso Di essere Risentito E non riesci Ad accettare Questa emozione In te Potresti provare Rabbia Perché ciò Ti è angoscia Dall'altro Potrebbe essere Presente in te Una forma Leggermente Diversa E non L'accetti In breve La domanda Che ti devi Porre è Che cosa c'è In me Che ha Prodotto Questa situazione In che modo Possa essere Io Il co-generatore Di questa situazione In che modo Vi contribuisco Di nuovo Il concetto Dualistico Della vita Ti ostacola E ti confonde Se cerchi Una soluzione Con l'atteggiamento Di chi cerca Un compievole Allora Non la troverai Non troverai Soddisfacente Alcuna alternativa Perché O sarà Inappropriata Oppure si baserà Su una valutazione Superficiale Ci sarà Una vera Illuminazione Solo Se si capirà L'intenzione Inconcia Del proprio Problema interiore E del problema Interiore Altrui È solo Un circolo Vizioso Quando ti renderai Conto Che quella situazione È stata Cogenerata Allora Inizierai A muovere Dei passi Decisi Nella giusta Direzione La seconda Cosa È che Spesso Non riesci A trovare La risposta Perché Ricerchi La causa In modo Limitato O Moralizzante Il modo In cui Si concorre A creare Una situazione Potrebbe essere Assai diverso Da quello Di stare Sulla sua Difensiva Ad esempio Potresti cercare Di scagionarti Perché Senti in te Qualcosa Di malvagio In realtà Il tuo modo Di contribuire Potrebbe essere Nulla di malvagio O cattivo Forse Sottovaluti I tuoi valori I tuoi diritti Tutta la tua persona Potresti essere Debole Sottomesso Non abbastanza Assertivo A favorire Così Una situazione Negativa In modo Molto diverso Da quella Di cui Ti difendi Confusamente Dentro di te Questa Debolezza È sempre Dovuta A qualche Disturbo Della psiche A livello Profondo E non può Che generare Negatività E destruttività Per eliminare La debolezza Non serve A nulla Scacciare I sentimenti Distruttivi Ciò Non porterà A nulla Con questi Problemi Si deve Lavorare A un livello Molto profondo Spesso Si confonde La debolezza Con la bontà E la forza Con la spietatezza E l'egoismo Nel Vortice Di questa Confusione Non trovi Modo Di risolvere Il problema O scovare L'evidente Verità Allora Ti suggerisco Questa meditazione Per scendere In profondità Nell'io Voglio vedere Dove Rischio Di violare Qualche Legge Spirituale E dove Ho torto Nel senso Comune Del termine Ma vorrei Anche sapere In quale ambito Sono debole E confuso E quindi Da dove Nascono Le mie Emozioni Negative Dove Non sono Consapevole Dei miei Veri valori E dove Per via Di questa Mia Non consapevolezza Combatto Nel modo Sbagliato Vorrei Vedere Quegli elementi Raddrizzarli E osservarne Ogni aspetto Di solito I vari Aspetto Interagiscono Tra di loro E non Sono Elementi Scollegati Non Essere Autoassertivi Su un Livello Può Indurre Una Arrabbiosa Iperassertività Di superficie Orientando In tal Modo La Meditazione Si può Advenire A una Nuova Visione Una Visione Finora Bloccata Possa La vostra Comprensione Accrescersi In modo Da Che Evitiate Le vostre Distorsioni E come Esse Rappresentino Una Preziosa Energia Vitale Che può Essere Attivata Nel Modo Specifico Che vi Ho Indicato Siate Benedetti Ognuno Di voi Riceverete La Forza E il Potere Che Affluiscono In voi Fatene Uso Percorrete Il Sentiero Al Nucleo Stesso Del Vostro Essere Interiore Siate In Dio Avete Ascoltato La Lezione Della Guida Del Sentiero Numero 148 Positività E Negatività Un Unica Corrente Energetica Per Ulteriori Informazioni Visitate Il Sito Web www.bibliotecadelsentiero.org